L'Antropea forse è stato il lavoro più sofferto, perché è una città che ha un grande richiamo turistico, è una città che ha molte iniziative in corso e comunque molto attraente. Quindi il lavoro che abbiamo fatto nel cercare di scoprire questi collegamenti a Valle è stato anche quello di dare stimolo alla commissione che si è insediata, infatti alle persone di cui ho la massima fiducia di mantenere lo stesso livello anche di attrattività turistica della città, in modo che questo periodo di gestione commissariale non possa in alcun modo compromettere né la stagione turistica né il livello dei servizi che devono essere comunque garantiti. È stata una di quelle cose più sofferte, perché intervenire su una proposta di scioglimento di un comune non è mai una cosa piacevole, in qualche modo è un po' anche una nostra sconfitta. Però se questa è la strada e se questa porta anche a cambiare il volto della Galabria, andiamo avanti così.